Ritorno in pole position per Harrison Scott nel secondo turno di prove ufficiali dell'Euro Formula Open 2017 a Budapest per il quarto round del campionato. L'inglese in 1.36.130 ha preceduto Devlin De Francesco autore del terzo tempo e poleman provvisorio ed il diretto rivale in campionato l'inquadrato russo Nikita Troitsky portacolori di Drivex School nonché di SMP Racing. Una sessione lineare, una sessione che non ha visto l'arrivo della pioggia come invece quella del sabato. Soli 78 millesimi a dividere Nikita Troitsky da Harrison Scott, 4 decimi invece per De Francesco appaiato in seconda fila da Eliseo Martinez, miglior qualifica dell'anno per il pilota del Theo Martin Motorsport. Un giro eccezionale quello di Scott, velocissimo anche più dei test del giovedì, soddisfazione per RP Motorsport che riesce così a tornare davanti a tutti con l'inglese che può riallungare in classifica. Un brivido qui con la vettura parcheggiata, miglior debuttante appunto Troitsky in seconda posizione e l'esultanza di casa RP per il ritorno in pole position. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS